Noi siamo partiti da quello che era, credo per ogni genitore, la preoccupazione più importante, cioè la salute del proprio figlio e con noi era a fianco sua sorella che amava suo fratello, che si preoccupava di suo fratello, che era cresciuta in una famiglia coesa e purtroppo caratterizzata da problemi di salute neurologica di Alberto, che purtroppo era affetto appunto da una malattia neurologica importante, per cui si è dovuto curare, per cui ha avuto 8 anni, quindi praticamente da poco che era natalice, quindi voglio dire lei è cresciuta con questa attenzione di un fratello che aveva necessità di cura, peraltro controllata e che però lui ha vissuto sempre in modo, voglio dire, pesante questa caratteristica di essere una persona malata e di una malattia che, insomma, è noto l'epilessia nei casi conclamati con crisi importanti, dà un'emotività nei confronti delle persone che assistono molto importante, perché purtroppo ha un impatto pesante e quindi lui temeva questi eventi e in qualche modo, insomma, questo l'ha segnato, l'ha segnato perché ha avuto comunque un'infanzia più controllata, un'infanzia in cui… Ma lui, com'è stata l'infanzia dei due fratelli? Hanno vissuto una bella infanzia insieme oppure è sempre stato un po'… Assolutamente, due bambini, no, assolutamente, come potete vedere anche dalla pagina Facebook c'è una foto, una delle più belle, che come dire, ho voluto condividere insieme alle cose purtroppo brutte, che è questa foto e loro due sul gommone con Alberto che, insomma, guida questo gommone al mare a Varigotti dove loro hanno vissuto, insomma, tantissime estati, con tanti amici e con una complicità esagerata, normalissima, ma una complicità che è durata fino a due settimane prima, anzi, fino alla settimana prima, perché il 25 aprile si sono sentiti in modo, diciamo, normale e Alberto si è preoccupato di come avesse passato sua sorella alla festa della liberazione, cosa avete fatto, voglio dire, relazione molto più stretta con lei, non con noi, non ci eravamo neanche sentiti, voglio dire, in quei giorni purtroppo, anzi, con noi aveva una conflittualità caratterizzata dalla telefonata che poi abbiamo messo appunto su Facebook, sfociata in un delirio ormai, ecco, eppure con sua sorella si sforzava di trovare quella vena di affettività, di emotività normale che per lei era sempre stata. Abbiamo saputo che poi aveva iniziato un po', diciamo, a deviare, a avere dei problemi dal 2018. Beh, a deviare nel senso che ha perso il lavoro, ha perso il lavoro e la fidanzata, attenzione, nel lavoro, sempre in relazione a un episodio di una caduta epilettica che ha avuto anche appunto in ufficio, era stato ricoverato al pronto soccorso, l'aveva accompagnata una collega che si era molto preoccupata per lui, però per lui è stata, voglio dire, una vergogna che non è riuscita a superare, quindi poi in fondo è quello che l'ha allontanato dal mondo del lavoro e poi la difficoltà a rientrare, lei mi insegna, voglio dire, purtroppo non è l'unico disoccupato che è rimasto in Italia e quindi questa difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro per lui era doppia, nel senso che comunque avrebbe, come dire, richiesto delle caratteristiche, ad esempio, di essere in mansioni per cui non era contato col pubblico, giusto perché la sua ansia era quella di avere una crisi epilettica, chiaramente, davanti magari ad altre persone, quindi… E in tutto questo Alice era al suo fianco? Alice assolutamente sempre al suo fianco. Una vita normale, lei lavora? Una vita, assolutamente, assolutamente, voglio dire, vacanze in campagna, feste, come andate tutte insieme, infatti l'ultimo Natale Alice era tristissima, ancorché fosse il primo Natale con il suo bambino, voglio dire, pur era triste perché mancava il suo fratello, voglio dire, era il suo cruccio ed era il periodo in cui purtroppo ci eravamo resi conto che Alberto dopo un periodo di euforia sopra le righe, chiamiamola così, gli psichiatri probabilmente lo chiamerebbero appunto in altro modo, cioè già come un delirio di onnipotenza perché era venuto in possesso di una cifra di denaro per lui importante e che si è fumato nel giro di tre mesi e quello ci ha fatto scattare con Alice sicuramente, come dire, proprio il motore per dire dobbiamo aiutare Alberto perché Alberto si sta perdendo, è stata lei… utilizzava cannabis, questo lo diceva perché a suo avviso quello che leggeva, io lo ignoro ma devo dire anche i neurologi ci hanno confermato questa credenza se vogliamo dire, poteva essere diciamo una sorta di calmante per le crisi epilettiche, per tenerlo insomma in uno stato più di tranquillità, di mancanza di ansia, questo io voglio dire, poi altre tipologie di dipendenza non ne ho idea, Alberto viveva per conto suo, Alberto aveva 40 anni, non era un bambino, non era un adolescente, 42, cioè quindi voglio dire era avulso da quello che era ormai la quotidianità, non so come dire, quindi sicuramente Alice sapeva più cose di suo fratello di noi, questo è pacifico perché Alice abbiamo saputo dopo appunto la conoscenza del fatto che fosse venuto in possesso di questa somma di denaro, cioè era stata coinvolta lei, erano risparmi che gli avevamo fatto per Alberto di un fondo pensione che lui si è disinvestito. Ecco poi l'epilogo… Questo è stato probabilmente il fatto poi quando abbiamo visto che appunto c'era questa emorregia di denaro che non ci sapevamo spiegare perché voglio dire non era una foglia di denaro, posso anche dirlo, erano 16 mila Euro voglio dire, però che in tre mesi siano chiaramente spariti, è chiaro che ci ha fatto anche sospettare altri tipi appunto di dipendenza, infatti quando siamo andati in salute mentale ci avevano detto vi siete rivolti al CERT, ma non avevamo evidenze per dire Alberto era dipendente di una qualche, peraltro dicendoci che il CERT aveva dei tempi di intervento, di una lunghezza, loro stessi, ecco entriamo su uno specifico per cui lei è qui oggi, perché vuole giustizia e vuole che certe cose non accadano più, lei imputa alla Polizia di Stato e imputa alla Servizio di Salute Mentale di non aver agito… Diciamo alla filiera medica e alla filiera della sicurezza pubblica, poi chi sia deputato a occuparsi della salute mentale dei cittadini e alla sicurezza fisica dei cittadini, non sono io cittadino voglio dire, che mi permetto di andare a verificare la burocrazia di questo o a farlo senza conoscerne le strutture e le procedure. Purtroppo per quello che è accaduto ora però pretendo di conoscerlo almeno dopo, cioè voglio dire quindi… Se qualcuno ha sbagliato? Qual era la procedura, qual erano i protocolli previsti e come ho detto dalla notte stessa in cui ero davanti al cadavere di Alice che non ci lasciavano neanche avvicinare a vedere, 30 poliziotti, ricordo che due poliziotti non avevano tempo di venire qua ad ascoltare la telefonata che credo sia abbastanza esaustiva della situazione in cui versava la mente di Alberto. Ha sentito, il giorno stesso, la mattina dell'omicidio, primo maggio, Alberto chiama, risponde suo marito. Cosa dice Alberto? Voi avete ascoltato, spero, la telefonata. Come ha detto il giudice Fagioni è stato un preannunciare un omicidio, quindi voglio dire non era solo una minaccia, era un delirio, ma era un delirio, cioè oltre che un'estorsione è una premeditazione di omicidio, quindi direi che c'erano dei capi di imputazione abbastanza evidenti, e del resto ex post l'ha riconosciuto il giudice, avremo tanto voluto e vorremmo tanto, perché Alice non torna più, ne siamo coscienti, ma vorremmo tanto che a fronte di eventi di questo tipo ci sia un'allerta immediato, cioè la tempistica deve essere veramente pronta. Ma attenzione, non è quello il solo elemento, perché su una telefonata comprendo che possano esserci molte giustificazioni del fatto che non ci fosse una tempistività, ma noi abbiamo narrato una settimana di eventi molto gravi, quella della sera prima, della sera prima, soltanto del 30 di aprile, dare fuoco alla porta della nonna con un cartone, quindi con una, voglio dire, struttura piuttosto importante per fare del male, cioè ci poteva essere, mia madre è morta soffocata la sera prima se avesse avuto semplicemente delle tende di nylon vicino alla porta, quindi non mi spiego già quella sera il dispiegamento di forze per quell'evento, mi perdoni, cioè vale a dire c'è stato l'intervento di due pattuglie, di due camion del Vigili del Fuoco che sono passati, di un 118, quindi pensi a quante persone erano in quel luogo e chiuse le porte e chiuse, voglio dire, che è successo? Nulla, nulla, quell'episodio è morto lì, ho avuto qua il 30, il tentativo di estorsione di Alberto, l'ultimo, l'ho narrato ai due poliziotti che sono venuti a chiedermi conto, ragione, notizie sull'incendio della porta, mi hanno fatto firmare un foglio che fino a fatto questo foglio, cosa ci fosse scritto questo foglio e uno dei misteri che non abbiamo, come abbiamo il mistero della telefonata che, come vede la telefonata di Alberto, e c'è costata, io credo che qualunque madre, qualunque genitore si renda conto quanto c'è costato far ascoltare questa telefonata e ogni volta che l'ascoltiamo che cosa proviamo, come siamo? Questa per voi era già la denuncia, non c'era bisogno di fare una vera e propria denuncia, la polizia dice, a noi è mancata la denuncia per poter in qualche modo... Perdoni, ma il 30 erano qua i poliziotti, il 30 aprile sabato alle ore 20, se lei mi dice, se il primo di maggio mi dicono che non possono accogliere la denuncia, la nostra telefonata al 112 era anche per chiedere la denuncia, come potevamo fare per fare una denuncia? Ci hanno detto venite domani e il 30 di aprile? Erano qua, a casa nostra, abbiamo parlato, condivise, noi, genitori, mia mamma, poi abbiamo saputo anche i vicini di casa, hanno dichiarato pubblicamente che era un mese che vigili urbani, carabinieri e polizia girava per il condominio di via Balbi Piovera 15. Ma cosa ne è stato di questo, voglio dire, di questo susseguirsi di eventi? Quindi noi vogliamo ascoltare la telefonata al 112 e le telefonate che ho fatto io alla sera al 112, qualcuno mi deve ancora dire che Alice è morta, perché nessuno ha avuto il coraggio, quando io sono stata al telefono 40 minuti urlando di dirmi dov'era mia figlia, nessuno mi ha detto che Alice era morta, ok? Quindi io voglio che tutti ascoltino le nostre telefonate al 112 e la risposta di questo operatore, sinceramente con rispetto ho letto la risposta della procura, ma francamente questa come dire sensibilità nei confronti dei testimoni che devono ancora testimoniare, ricordo che mia figlia è morta il primo maggio e oggi ne abbiamo 30 di agosto, devono ancora testimoniare 10 persone, non è che voglio dire deve testimoniare per un Ponte Morandi 3.000 testimoni, ma non solo, tutta questa sensibilità perché non vengano influenzati questi testimoni quando noi, io sono stata sentita come testimone a tre giorni dalla morte di mia figlia, perché il mercoledì successivo alla morte di Alice io ho reso testimonianza per due ore e mezza davanti al pubblico ministero, queste due ore e mezza sono diventate nove paginette con un riassunto molto molto addomesticato e infatti ho preteso che venga ascoltata anche tutta la registrazione di queste due ore e mezza in cui ho raccontato quello che sto raccontando ora al PM. Lei aveva la fiducia sulla giustizia? Lei è testimone che l'avevo fiducia sulla giustizia nel senso che inizialmente come ben sai io non volevo neanche fare interviste, sono stata interviste di presenza, non era assolutamente purtroppo nel nostro stile neanche avere contatti sui social. Bene, ho imparato che per essere in qualche modo minimamente ascoltata ho dovuto ricorrere all'intervento di un avvocato che ha dimostrato di aver già scardinato diciamo parecchi sistemi di omertà dello Stato e questo l'ho fatto, come avete visto anche questo, ben avanti nell'andamento di quelle che erano state dette indagini, indagini parallele, sto parlando delle omissioni di omessa denuncia e atti di ufficio che sono stati dichiarati l'apertura di questo fascicolo, ma in questo fascicolo noi ci possiamo inserire e non possiamo sapere cosa stanno facendo. Cosa mi perdoni? Quello che non stanno facendo, ripeto perché mia figlia è morta il primo di maggio e siamo ancora qua a valutare come dire la tranquillità dei testimoni, devono ancora testimoniare e non possiamo disturbarli facendo ascoltare una telefonata che abbiamo fatto noi al 112, noi, al 112 noi pretendiamo che venga ascoltata, questo è. Noi si è affidato all'avvocato della famiglia Cucchi, è un avvocato, una tragedia simbolo dei problemi anche del porto. Purtroppo sì, purtroppo sì, nel senso ed è stata una chiave di volta, nel senso che almeno ha avuto un segnale di riscontro da parte della procura perché finché me ne sono stata in attesa fiduciosa, come ero fiduciosa di tutte le divise con cui abbiamo parlato, ma devo dire che purtroppo si impara dall'esperienza e l'esperienza è stata che comunque le forze dell'ordine mettono in dubbio per primo la buona fede delle persone che denunciano, del resto purtroppo lo vediamo anche dai recenti fatti di cronaca. Voglio dire, tutta la buona fede viene messa più che altro sulle persone indagate, sulle persone che dovrebbero essere indagate, cioè mio figlio non si sa se sia stato interrogato, io sono stata sentita come, come voglio dire, fossi quasi io l'operatrice che ha fatto, che ha fatto il danno alla porta di mia madre, mi hanno ampiamente, mi hanno addirittura rimbruttato. Quel giorno dell'incendio della porta, un giorno prima della tragedia, la polizia... 24 ore esattamente. La polizia ha bussato, siccome suo figlio, diciamo ai ascoltatori, abita a fianco alla porta di mia madre, quindi era abbastanza banale anche che in un condominio chi poteva agire? La polizia, siccome la mamma aveva detto, io penso sia stato mio nipote, hanno bussato, lui ha risposto senza aprire dicendo, io penso sia stato qualcuno nel palazzo, io non so che sia, ci deve essere un pazzo nel palazzo. E ho detto, possiamo entrare? I poliziotti hanno detto, così parliamo meglio, volevano capire in che stato era suo figlio, il suo figlio ha detto, no io sto per fare la doccia e allora se non sono stati perché in quel momento non potevano fare irruzione nella casa. Questa è la versione che mi è arrivata dalla polizia, lei sapeva queste cose, immagino? No, mi aveva lei accennato questo discorso della doccia che devo sorridere perché sennò mi pruderebbero le mani. La signora non ha voluto, la nonna, come lei, non ha voluto sporgere denuncia, questo ci ha un po' rallentato, lei è la cosa che la fa in bestia lì, lo so, lo vedo già dallo suo sguardo. Le chiedo per ultimo perché siamo molto lunghi, abbiamo parlato delle possibili omissioni da parte della polizia e del fatto che lei è qui perché vuole che queste cose non accadano più, ma tornasse indietro, lei c'è qualcosa che farebbe o non farebbe? Sicuramente, quella domenica, come cittadino e lo posso dire, assolutamente l'unica cosa che al momento io potrei consigliare a qualunque cittadino si trovasse in una situazione di pericolo fisico per sé, per la propria famiglia, chiamare una vigilanza privata, quello che feci nelle tre notti del 24, 25 e 26 aprile, in cui la vigilanza privata fece dei passaggi, io chiesi un vigilante fisso, c'è un piantonamento, mi hanno detto signora, un piantonamento non riusciamo a darglielo, pensi che li chiamai due ore prima di notte, ok, e mi risposero e mi aiutarono, le posso dare una vigilanza saltuaria, cioè che faranno dei passaggi notturni davanti alla porta di sua madre, bene, Alberto se ne è accorto, Alberto è passato addirittura mentre io davo le chiavi del portone al vigilante e devo dire estremamente, persone estremamente come posso dire, sveglie, sveglie sulla percezione del pericolo e degli eventuali indiziati, molto più, mi perdoni lo devo dire, di persone pagate dallo Stato per essere attenti e avere, come dire, delle antenne, ok, sveglie sulla situazione di pericolo, bene, quelle tre notti, ma anche quei tre giorni, non è successo nulla di danneggiamenti alla porta di mia madre ed Alberto è stato tranquillo, quindi l'unica cosa che avremmo dovuto fare quella domenica, chiamare la vigilanza privata e dire patrugliatevi a Fabrizi, questo ce lo porteremo nella tomba, sicuramente come colpa nostra di non aver saputo proteggere Alice, l'abbiamo scritto sui giornali nel ringraziamento di tutte le persone che ci sono state vicine, gli abbiamo chiesto scusa ad Alice, a suo figlio, a suo figlio che non aveva più sua mamma, questo dobbiamo fare, pagare una vigilanza privata, perché questo è quello che potete vedere, è quello che noi stiamo raccontando e vorremmo che l'ultimo atto, cioè la richiesta ultimativa a un numero di emergenza, a un numero di emergenza, mi sembra di essere sciocca dire queste parole, perché è talmente come dire è palese questa cosa, come siamo stati trattati da cittadini che chiamano un numero di emergenza, qualcuno ci deve dare una spiegazione, siamo veramente molto lunghi, andrà a trovare suo figlio in carcere se è possibile? Se sarà utile per lui, in questo momento il nostro... Ma lei come mamma sente di voler andare? Io sono mamma di Alberto, io sono mamma di Alice e Alice che è qua, io la vedo, la sento soprattutto, vorrebbe sicuramente, sicuramente, ed è preoccupata per suo fratello.